ragazzi io sono davvero 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 le fan page di charlie alcune non dico insomma avete capito alcune fan page di charlie sono diventate davvero toxic e fanno dei video di dove gli augurano la morte o cose del genere per e dicono si toccate ciò insomma così delle cica schife cica schife le odio dicono queste cose ma alcune quindi se sei una fan page di charlie scusami sto dicendo alcune dicono queste cose e giovi ha ragione ha ragione tutti dicono dove basta siete sciami se dite ciò giovi ha perfettamente ragione poi ci sono quelle ragazze che dicono c'è l'insultato per colpa di wolfgif kid schifo su rai schifo su che schifo su le mine schifo tutti ovviamente questo non è un insulto per le c'è l'inkid o come le chiamate voi dukin ma una cosa per dire che io non voglio essere più una dukin io lo ero lo ero ma perché mi piaceva la persona e non avevi mai augurato la morte non ho mai detto che fosse la mia io l'ho detto soltanto perché cioè io ero una fan page ero ero perché l'ho lamentante lo facevo per hype si lo facevo per hype perché ma ora fare una fan page bu di cuore ok ok l'ho ammetto non mi piace la vita meglio la odio la odio non so perché diceva così tanti followers per questi balletti a questo punto comunque io diventerò una grandissima fan page dello squid game e della 267 quindi lasciate essere il mio user io sono una fan page dello squid game e basta e basta e basta e basta perché giovi è emotivo a prendere ragione e tutti dicono giovi a prendere ragione allora quindi per favore date ragione giovi e per favore smette se siete delle dunking e insultate smettetela perché è davvero una cosa brutta grazie a tutti